In un maglificio la progettazione parte dal filo. Sono Rosanna Dalmas, insieme ai miei fratelli Angelo e Lisa gestiamo il maglificio di famiglia, azienda nata nel 48 dalla passione di nostra madre che ha incominciato questa attività. Oggi noi la portiamo avanti con grande passione, come ci è stata trasferita. Questo mestiere ce l'abbiamo da quando eravamo nella pancia della madre. Lo facciamo con grande dedizione e siamo proiettati in questo mondo da sempre. Abbiamo fatto un progetto con A.D. in collaborazione con Martino Gamper e Caroline Lerk. Siamo legati a questa attività che fa parte del nostro DNA. Insieme lo stiamo portando avanti, cercando di trasferire tutto questo alle persone che collaborano con noi. Noi siamo nati nelle maglie. Noi respiriamo il profumo della lana e l'odore della paraffina fin da piccoli. Questo lavoro, innanzitutto per la conoscenza che impari da piccola, proprio dalla prima gavetta, se ti appassiona è perché ha un'infinita possibilità con i fili di creare e vedere punti sempre diversi tra di loro. E poi crescendo, collaborando con le case di moda, con gli uffici stile, con l'innovazione delle tecnologie e con una scuola di base del fatto a mano, tradotto di là, puoi creare in maniera un po' più veloce cose che hanno delle strutture meravigliose. I punti che si possono sovrapporre e creare disegni che nella maglia, magari abbastanza anni fa, non c'erano. Infatti con A.D. i suoi designer, Martino perché magari conosce bene la natura, la materia del legno. E con un po' di prove ci siamo riusciti ad avvicinarci o comunque a realizzare quello che poi è diventato un oggetto che può portare sia al maschile che al femminile, un oggetto, una sciarpa magnifica con abbastanza possibilità e modalità di interpretarla. Sì, credo che questo è uno degli aspetti meravigliosi dell'italiano, di piccola fabbrica. In Italia si chiamano artisani, sono diversi parole con la stessa cosa. Ma questi sono veramente persone che, diciamo, è una piccola industria, ma si chiamano di piccola o di piccola, e hanno un grande capo di come lavorare con creativi. Questo progetto in modo particolare che stiamo portando avanti è un esempio classico di quello che è fare la maglieria, di quello che è fare questo genere di prodotto. Nasce da un filo, nasce da un'idea e poi si sviluppa nel tempo diventando magari qualcosa che è completamente diverso da quando è nato. È stato sicuramente fasto, è stato sicuramente creativo, è stato sicuramente collaborazione in tutto ciò che sia stato molto lungo, quindi è stato fatto da quattro, ciò che è stato attraversato, cercare di usare il resto, di quello che è stata che si sceglie sempre gli anni in materiale e in grado, e è durato. E' uno dei primi aspetti che era molto interessante. Credo che il sistema sostenibile non è un lavoro molto misurato, ma è un obiettivo che le persone potrebbero trascinare e mantenere. Non ho mai pensato di fare altro nella vita. È un oggetto che non ha tempo, è un oggetto che, secondo il nostro punto di vista, può essere indossato da un uomo, da una donna. Ci si può giocare. Ecco, noi, in qualche modo, per fare questa cosa, abbiamo giocato. Ed è stato un lavoro diverso da tutti gli altri. Ci siamo messi a rovistare tra le cose, abbiamo sperimentato e il risultato che ne è uscito, secondo noi, è un'opera. Un'opera. Perché essere creativa con le tue, con le tue, con le tue, con le tue, per creare, obiettivi, possono essere solo obiettivi, possono essere piccoli, possono essere più piccoli. E anche poter comprare, credo che l'industria non abbia la capacità di comprare necessariamente, hanno bisogno di produrre massi di cose. Hanno fatto prototipi, hanno fatto esperimenti, hanno fatto ricerca, ma la reale esperimentazione e trovare interessanti mixi di creazione. Credo che è quello che creazione di creazione, trovare nuove mani di fare cose che abbiamo fatto nel passato, ma continuiamo a fare in un modo diverso. Credo che l'artigianalità e questo mestiere non possa finire.